Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, ram e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti sia che siate professionisti per quanto riguarda il mondo dei PC sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto semmai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e mi vedete con i capelli corti innanzitutto e con un mega setup doppio PC alle mie spalle. Allora vi presento la mia build definitiva, non riesco a dirlo neanche io senza ridere, la mia build definitiva per il momento, precisiamo la cosa, che contiene all'interno due PC nel case Phanteks Antho 719. Allora partiamo col dire che il video non doveva essere così, ok? Io ieri ho montato tutto in maniera tale da poter essere registrato in un video. In che senso? C'è praticamente, avevo la fotocamera sopra il PC mentre montavo, ho detto vai forse potrebbe essere anche un tutorial. Beh diciamo che dopo un paio d'ore di video mi sono un attimo ricreduto. Uno perché il video sarebbe uscito troppo lungo, secondo perché questo case secondo me ha delle criticità abbastanza serie che mi hanno fatto perdere un po' la pazienza e se questa cosa si fosse vista in video, beh sinceramente parlando non sarebbe stato bello per voi e ci avrei fatto io la figura del deficiente perché incazzarsi per costruire il PC non è proprio la cosa più bella da vedere sull'internet. Magari, perché no, con questa bestiolina potremmo qualche volta assemblare un PC in live, adesso che abbiamo praticamente due PC con i quali poter lavorare. E se volete vedere qualcosina in live ragazzi vi ricordo che comunque tutti i link di riferimento sono in descrizione. Ma parliamo un attimo dell'esperienza di montaggio di questo bambino. State sicuramente vedendo dei B-roll, beh fondamentalmente il montaggio della scheda madre principale e della scheda madre secondaria è stato decisamente semplice. È una passeggiata, è semplicemente giocare alle costruzioni. Io metto il pezzo giusto nel buco giusto e tutto quanto funziona. La parte brutta ragazzi comincia quando si mette in mezzo il cable management. Il cable management in un case così dovrebbe risultare semplice. Non è affatto semplice. Non perché ci siano due PC ragazzi, assolutamente. Io ho semplicemente aggiunto quattro cavi rispetto alla mia build precedente. Il cable management in questo case è difficile perché è vero, è mastodontico. È alto, ma è stretto. Quindi nel mio PCO11 Dynamic di lì e lì, che era un po' più basso, ma era comunque un po' più largo, beh c'entrava a qualsiasi tipo di cavo. Qui ho dovuto togliere un SSD. Quindi ho perso, vabbè, 120 giga di memoria che sono trascurabili. Ho dovuto fare un trasferimento di SSD. Ma la cosa che a me fa incavolare è che se praticamente questo case viene venduto e sponsorizzato come case da WPC con un alimentatore da WPC, porca miseria, fategli i buchi nello chassis, perché per far passare un cavo io ho dovuto piegare l'alluminio qui, fate i buchi in modo tale che possano passare anche i vari connettori. Ok, va bene, sicuramente ho sbagliato io, non ne sono stati venduti tantissimi di questi case, perché fondamentalmente stiamo parlando di un ottimo prodotto esteticamente molto molto bello. Il PC ancora non l'ho acceso, assolutamente. Volevo soltanto condividere con voi un pochettino di impressioni a caldo. Ora è domenica mattina, io ho finito di montare il tutto, ma ieri sera, che era mezzanotte, mezzanotte passata comunque, il problema è il cable management, come vi ho detto, perché nel retro del case, per quanto ci sia una bombatura in questa zona, dove c'è il secondo sistema, dove c'è la scheda madre Mini TX, quindi una bombatura che permette all'alimentatore di entrare e quindi c'è dello spazio, troppi cavi lì non c'entrano. Ok, il mio è un caso limite, perché come vedete ho quattro ventole qui, due ventole qui, ci sono comunque altre periferiche con altri cavi annessi, ma porca di quella miseria, c'avete un case alto 70 cm, un altro po' 50 cm, quant'è? Beh, un modo migliore per ottimizzare lo spazio si poteva trovare. Un'altra cosa che non mi è piaciuta troppo è la qualità costruttiva del case, ma questo è ciò che in inglese si chiama the nature of the beast, nel senso ho un case grandissimo, ho un case molto ampio, è normale che non sia stabile, resistente e non suscettibile alla piegatura durante il montaggio. E capitano molte volte, appunto, specialmente montando il radiatore e montando le ventole inferiori, che ogni tanto l'alluminio comunque facesse un piccolo gioco. Va bene, nulla di che, tanto il PC deve stare fermo, non è che deve saltare e gironsolare. Però, ok, sono cose che avrebbero fatto piacere, se fossero state aggiustate, ecco, in fase di progettazione, magari con dei materiali un pochettino più premium, materiali decisamente più resistenti, guardate, avrei anche pagato un 50 euro in più. Però, per farvi capire, la plastica qui, al tatto, la preferisco rispetto a toccare l'alluminio nella base del case. Ok, sono gusti, sono gusti. Ragazzi, fondamentalmente, per il resto, è tutto molto standard, molto straightforward. Basta semplicemente, poi, mettere i cavi nel posto giusto e sicuramente avrete qualcosa a penzoloni, che però, per fortuna, si riesce a nascondere. Ragazzi, si riesce a nascondere molto bene, almeno nella parte frontale. Nella parte posteriore, ok, nessuno lo va a vedere, a meno che voi non togliate la paratia, cosa che io non farò, perché poi, credetemi, ho paura, io non sono certo di riuscire a chiudere. No, non è vero, ci riesco a chiuderla. Semplicemente, ci sono troppi i cavi, poi non ho voglia di rimettere a posto. Ma, se avete voglia di prendere questo case, beh, cominciate a pensare che probabilmente avrete un bel po' da fare per quanto riguarda il cable management. Studiatelo molto, molto bene. Per un singolo PC, raga, costruire qui dentro è una favola. Ci mettete nulla, davvero, perché per i piccoli cavi, specialmente quelli delle pentole e quelli, casomai, del dissipatore al liquido, perché è un Graken Z73 che ha molti piccoli cavi che escono dalla pompa, questo case è fantastico, davvero, è una passeggiata, costruirci all'interno. Il problema subentra quando c'è qualche cavo un po' più grande, subentra quando bisogna fare del cable management con i cavi che escono dall'alimentatore, perché, ok, il Revolt X 1200W è un ottimo alimentatore, tecnicamente, sui cavi che sono di buona fattura, però, potevano essere studiati un pochettino meglio. Cioè, state facendo un alimentatore per un sistema doppio PC, ma perché mi dovete mettere i cavi a Y? Cioè, io ho la scheda grafica con un connettore a 8 pin e un altro connettore a 8 pin che esce a Y, ed è una cosa che su un alimentatore che costa perché è di ottima fattura, beh, che cavolo, qualche cavo un po' migliore potevate mettercelo. Se questo è il mio parere personalissimo, poi, ovviamente, l'azienda decide il da farsi. Nulla, ragazzi, io concludo questo video dicendo che il PC, come ho detto, ancora non è stato acceso. Per nulla. Il PC è ancora in tonso. Avete visto un pochettino le fasi di montaggio dei vari componenti. Ricapitoliamo un pochettino tutte quante le parti. Nel sistema principale abbiamo un Ryzen 9 3950X, 32 GB di RAM, una RTX 3080 su una X570 MSI Prestige Creation, e voi direte, ma porca miseria, se è il PC principale, perché c'è un 16 core? Beh, il 16 core mi servirà per giocare, per registrare, per editare video e giocare, ci tengo a precisare, a risoluzione molto alta, 3440x1440, quindi, beh, sapete, quel processore per me va più che bene. Avrei anche potuto optare per un 3900X, ma, ehi, avevo un 3950X e che fai, te ne privi? No, ho messo quello. Il sistema secondario, invece, è qualcosa di un po' più blando. Abbiamo un Ryzen 5 3400G, 16 GB di RAM, su una B550. Per chi dice, oh, attenzione, le B550 non supportano i 3400G? No, raga, esistono i BIOS. E i BIOS servono, appunto, a questo. Perché se il socket è lo stesso, basta qualche tweak software per far supportare processori dove non vengono supportati, se il socket è lo stesso. Abbiamo poi, per catturare il video dal PC principale, un Elgato 4K 60 Pro. È, semplicemente, una scheda d'acquisizione che si occuperà di prendere il video dal primo PC, passarlo al secondo, che poi sarà incodato e messo su internet, fondamentalmente. Devo ancora capire bene come il routing dei cavi sarà gestito, perché, raga, fondamentalmente, devo un attimo studiare come funziona un setup WPC. Questo video cercherò di farlo uscire il primo possibile. La settimana prossima, salvo imprevisti, vedremo in azione questo bimbo, comunque, in streaming. Se non mi seguite sul canale Viola, raga, andate a seguirmi, perché tutto quanto in descrizione è semplicemente Easy Peasy Lemon Squeezy. Voi premete, cliccate, vi trovate dappertutto. In descrizione trovate anche tutti i pezzi della build. Porca miseria, l'ho aggiornata ultimamente, ho aggiornato la descrizione, devo aggiornarla ancora una volta. Ma con tutti i link affiliato, comunque, se volete supportare il canale, voi acquistate da quei link, non pagate nulla in più, ma comunque date una mano a me. Adesso devo portare questo bimbo da oltre, penso, 30 kg ormai, devo portarlo dove c'era la mia vecchia postazione. Devo cominciare a smanettarci come si deve e, beh, sono sicuro che ne vedremo delle belle. Io vi ringrazio per aver guardato il video, ragazzi. Vi ripeto, voleva essere, era cominciato come un altro tipo di video, cioè un video in cui vi faccio vedere come si monta un doppio PC. Il problema è che, essendo stato abituato a un determinato tipo di case, cioè l'IPSU 11 Dynamic, che secondo me, per il cable management, rimane ancora uno dei migliori case mid-tower presenti sulla piazza, perché questo qui, ragazzi, questo è un full tower, questo è enorme rispetto al mio vecchio case, ma nel mio vecchio case era molto più semplice costruire, ho toccato qualcosa. Qui ho dovuto, credetemi, impregare contro diverse divinità molte volte e niente, diciamo, l'esperienza di montaggio è stata semplice, a parte per il cable management. E nulla, ragazzi, grazie mille per aver guardato il video, ci vediamo a qualcosa di prossimo, non so cosa farò, e se volete vedere questo bimbo in azione, vi ricordo sempre di seguirmi in streaming. Grazie mille ancora, ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Fatemi sapere come sto con i capelli così, penso di stare abbastanza bene, me l'ha detto pure mamma, sei bello. Ci vediamo, un prossimo video allora, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao ciao belli.